ciao a tutti bentornati sul canale cerco di fare un video molto breve perché ho il telefono in mano e mi viene male al braccio allora è un tag che ho visto sul canale di debbi quindi debbina il tag si chiama cosa non può mancare ed è stato ideato da sontina f sono sei domande e cercheremo di rispondere più velocemente possibile altrimenti impiegheremo sei anni solo per caricare il video allora cosa non può mancare nella tua borsa per me diciamo che prescindibili sono la penna e il portafoglio cioè io non posso uscire senza una penna in tasca è inutile e se sono posti dove devo attendere qualcosa ok libro assolutamente un libro perché io porto la zaino c'è solo un libro dentro praticamente scusate se ballo ma se sono una picciu niente niente sono tonta poi cosa non può mancare sul tuo comodino vabbè diciamo che indicativamente la bajur che è assolutamente fondamentale e carica batterie e di sera se ci sono io in camera il telefono il libro per me invece un cellulare il cellulare è una bottiglia d'acqua perché bevo come un cammello cosa non può mancare nel tuo frigorifero adesso vi riderete le sottilette e i dadi classici io devo fare il brodo proprio è fondamentale proprio quelli devono essere c'è 97 anni devo farmi tante pastine per me invece i budini alla vaniglia con la panna sopra c'è cinque anni e mezzo quindi quale budino mi sembra giusto poi cosa non può mancare nel tuo telefono allora per entrambi sicuramente la connessione internet senza la quale saremmo assolutamente persi poi io mi sono detta vabbè ma le applicazioni in linea di massima bene o male vai su internet c'è proprio col browser le trovi quindi per me le sue foto quale foto? due devo avere almeno una tua foto devo avercela se no non è il mio telefono non ti basta darmi tutto il giorno invece io faccio book facebook perché devo controllare il mio gruppo vedere cosa commento eccetera eccetera il nostro gruppo infatti mi sembra che che faccio facendo poi cosa non può mancare nella tua agenda e o nella tua rubrica adesso faccio rispondere prima lui che ha dato la risposta più idiota di questo mondo il numero di telefono invece nel mio bullet journal non possono mancare delle scritte in verde perché proprio sono fissata con le scritte in verde i tracker di qualche cosa perché proprio sta fissa che devo tenere tutto sotto controllo e poi per quanto riguarda i libri i titoli letti acquistati le varie date insomma poi cosa tu hai già detto cosa non può mancare sulla tua tavola qualcosa cioccolato io devo mangiare cioccolato proprio fondamentale per me il formaggio grattugiato lo metto dovunque lo metto sui secondi sui primi prima poi lo metterò anche nel gelato nella nutella grana per me già hanno tutte queste cose sono quello che danno nobiltà a qualsiasi tipo di cibo e niente adesso l'ultimo punto era semplicemente tagga chi vuoi quindi io taggo chiunque non abbia ancora fatto questo tag quindi credo recchedi e se non sbaglio anche l'angolo delle pergamene se l'avete fatto e pazienza lo e vabbè ovviamente tutti i piccioni ma sono già stati taggati da debbie perciò niente e ci rivediamo alla prossima ciao ciao